parteciperanno a questa gara per l'Emilia Romagna Mattia Marazzoli 6.09.66 quest'anno per il Trentino Massimiliano Berti 5.53.63 quest'anno è il miglior tempo tra gli atleti iscritti per la Liguria Aymanot Stroppa 6.13.18 quest'anno per Valle d'Aosta società gareggia per l'atletica Sandro Calvesi società che porta il nome di un grandissimo tecnico della nostra atletica un tecnico che è veramente nella storia grande maestro di atletica e soprattutto degli ostacoli Andrea Gradizzi rappresenterà la Valle d'Aosta 6.17 quest'anno per le Marche D'Ancona Tommaso Aiello 6.17 quest'anno per il Veneto Behailu Roveri 6.09.1 quest'anno per il Lazio da Frascati Giorgio Saddi che quest'anno ha corso in 6.01.27 per Friuli Venezia Giulia Niccolò Galimi 6.28 per la Lombardia la maglia di club è quella della nuova atletica Astro Lorenzo Cipriani che quest'anno ha corso in 5.55.40 per la Campania dalla Valle dell'Irno Andrea Aliberti 6.14 per la Puglia da Acquaviva Giovanni Perrone 6.10 di primato per Bolzano Samuel Demetz per il Piemonte da Saluzzo Stefano Bersia 6.15 quest'anno e per la Toscana Luca Solfato che ha un primato di 6.05 tra poco duemila cadetti intanto noi andiamo invece con la premiazione dei mille due siepi al femminile gara che si è vinta proprio con il classico arrivo al filo di lana perché si è lanciato lo sprint e soli 8.09 dividono le due protagoniste che hanno non solo loro ma anche tutte le altre dato vita davvero una gara molto interessante sono esattamente in sette decimi le prime tre al terzo posto Federica Pagliassotto del Piemonte 3.56 e 96 il secondo posto con 3.56 e 31 ha cercato fino all'ultimo di andarsi a guantare la vittoria Katia Pattis di Bolzano e ha ottenuto invece la vittoria proprio sul filo di lana 3.56 e 22 i colori quelli della squadra di casa dell'Emilia Romagna Francesca Vercalli Grazie Ovviamente l'invito che vi rivolgiamo è quello di rimanere con noi fino alla fine delle gare in modo da celebrare da festeggiare tutte le rappresentative presenti tutti i ragazzi che oggi hanno dato vita a una bellissima festa dell'atletica qui a Fidenza onorando al meglio la memoria di un grande coach come il professor Pratizzoli tra poco duemila metri maschili a seguire duemila metri femminili e poi le stafette 4% Grazie Florian Per esempio Ma che rinvole esclare c'è Per Bread Le asso volano si Grazie. Invitiamo le prime tre classificate del salto in alto femminile a portarsi al podio per la premiazione così come per l'invito vale per i maschi e le femmine dei metri mille. Grazie. Anticipo, quindi ne tengano conto gli staffettisti nel riscaldamento, leggero anticipo sulle gare. E tra poco i duemila metri cadetti. Invitiamo nuovamente gli atleti, le atlete a idratarsi, a bere abbondantemente, che la giornata è veramente calda adesso. Non aspettate di sentire i sintomi della sete, bevete, bevete, bevete. Grazie. 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 va la partenza la gara dei duemila metri cadetti favori del pronostico per il trentino della società valchiese Massimiliano Berti quest'anno ha corso in 5.53 e 63 ma troverà molti rivali sulla sua strada tra i quali il lombardo della nuova atletica astro Lorenzo Cipriani quest'anno 5.55 e 40 anche se è doveroso ricordare questa categoria va vissuta sempre con progressività è un punto di inizio è un punto di partenza per poi gradatamente entrare nell'atletica dei grandi servono dai 10 ai 12 anni per costruire un campione quindi è inutile precocizzare si rischia di fare solo dei danni 2.000 cadetti alla partenza gran caldo per questi 2.000 premiazione gara dei metri 1000 e premia il presidente della Fidal Lombardia Gianni Mauri che è lo speaker ufficiale di oggi questo ha tanto da dire sulle funzioni che questo signore ha e allora va a consegnare la medaglia di bronzo a Giuseppe Cattelani dell'Emilia Romagna 3.38.76 grandi tempi anche in questi 1000 nonostante la temperatura sia decisamente salita il secondo posto Massimo Flamini del Lazio 3.2 scusate 36.44 e la splendida vittoria con il tempo di 2.34 4.14 portando i punti pesanti alla Lombardia ancora Tiziano Marsigliani 3.4 Invitiamo a far partire i ragazzi dei 2000, se no si abbronzano troppo, già fa un gran caldo, per favore. Grazie. 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 E si aggiudica la vittoria con l'ottimo tempo di 2.55.17, Susanna Marsigliani della Lombardia. E finalmente si va con i 2000 metri cadetti. Dobbiamo ringraziare anche tutti quanti dalla tribuna, hanno applaudito con grande passione questi ragazzi. Fatelo anche ora. Dai, sosteniamoli in questi 2000 metri di gara. Forza. Davanti Lorenzo Cipriani, seguito da Massimiliano Berti. Cipriani Lombardia, Berti Trentino. Terza posizione per il laziale Giorgio Saddi da Frascati. Aggiungiamo un tassello ai 300. Attenzione perché siamo in via di conferma di quanto dico. Sembra che il 34.07 di Lorenzo Benati sia la miglior prestazione europea della categoria. Quindi davvero un risultato che oggi dà un gran lustro a questo Memorial Pratizzoli. I cadetti stanno affrontando sul ritmo questa prima parte di gara. Forza ragazzi, davanti la sagoma lunga di Lorenzo Cipriani e poi nella sua scia abbiamo Saddi per il Lazio e il Trentino Berti. E poi in ottima posizione anche il piemontese di Saluzzo Stefano Bersia. Abbiamo un'altra premiazione da dover effettuare. Non poteva farla altro che Sandra Dini, una specialista di questa disciplina, a premiare appunto la gara dell'alto femminile. Terzo posto per la Toscana con 1.64 va sul questo gradino. Idea Pieroni al secondo posto 1.67 superato al secondo tentativo Rebecca Mialeskul del Veneto. La stessa misura 1.67 ma superata al primo tentativo e quindi vince la gara Irene Romano della Lombardia. E intanto cresce il ritmo, davanti adesso si è portato Giorgio Saddi. Dai ragazzi forza, gara di qualità anche questa, servirà un tempo sotto i 6 minuti per vincere oggi. Prova ad allungare Saddi. Giorgio Saddi che quest'anno ha corso in 6.01 e ha nella sua scia gli unici due atleti iscritti che hanno tempi inferiori ai 6 minuti che sono poi Berti del Trentino in seconda posizione, Cipriani della Lombardia in terza posizione. 3 minuti e 40 secondi di gara e cresce ancora l'andatura, 3 per vincere. Saddi, Cipriani e Berti. La medaglia del vostro applauso è il premio più bello, dai forza, sosteniamo i ragazzi dei 2.000 cadetti. Ale, bravi, bravi, dai, 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 dai che si va. Fa l'andatura Giorgio Saddi che ha detto al secondo anno per il Lazio, Atletica Frascati e poi Lombardo. Nella sua scia, Lorenzo Cipriani. Poco più indietro, Massimiliano Berti. Sono tutti e tre cadetti al secondo anno di categoria, ultimo giro. Siamo a un parziale di 4.50, quindi dovrebbero chiudere sotto i 6 minuti per vincere. Dai, dai, dai ragazzi, forza, più forti del caldo, dai che facciamo il personale tutti, Ale. Ultimo giro per Samuel Demetz, forza, Samuel. Bellissimo questo finale dei 2.000. 5.50 adesso, dai che vai sotto i 6. vince per il Lazio Giorgio Saddi, fa il primato personale. 5.57.41, secondo è Massimiliano Berti e terzo il Lombardo Cipriani. Quarto posto per Giovanni Perrone per la Puglia. Quinto posto per Mattia Marazzoli e Emilia Romagna. E bravi tutti. Zona arrivo per Behailu Roveri, del Veneto. Zona arrivo per il piemontese Stefano Bersia. Zona arrivo per Tommaso Aiello, delle Marche. 5.57.41. E taglia al traguardo Nicolo Galimi, Friuli Venezia Giulia. E zona arrivo per il cadetto primo anno, Samuel Demetz da Bolzano. Prossima gara, 2.000 metri cadette. E sarà sicuramente una gara agonisticamente molto combattuta. Va detto che in questa prima parte della stagione ha fatto delle bellissime gare Giulia Bellini, Bresciana del Free Zone, che difende i colori della Lombardia. 6.39.42 quest'anno. E con lei, la laziale di Castelgandolfo, Livia Caldarini, 6.38.30 quest'anno. Ma sono tutte molto vicine, quindi sarà sicuramente una gara molto combattuta. Nessuna traccia della mortadella, Stefano? Fa male al colesterolo? Dopo i 2.000 il Festival delle Staffette, poi poco dopo le 15 circa, forse anche un po' prima, la cerimonia di premiazione delle rappresentative. E sarà il momento finale, un modo per salutare tutti voi, per ringraziarvi nella vostra presenza qui oggi a Fidenza, per ringraziare tutti quanti hanno lavorato, penso a tutto lo staff all'opera qui di Fidenza, ai giudici, insomma, ai tecnici del maxischermo, dell'amplificazione, a tutti i rappresentanti della federazione, delle società presenti oggi. Sarà un modo per ringraziare tutti. E il nostro grazie grande va ovviamente a tutte le aziende che vedete riportate sui gonfiabili, sugli striscioni, come Rea, come Laurini, officine meccaniche, come Parmigiano Reggiano, e poi Soya Sun e tutte le altre che trovate sui cartelloni. Siamo tutti molto orgogliosi, e lei per prima riesce comunque a conciliare tutto, sia lo studio, sia lo sport, sia gli amici. Siamo molto contenti con questa cosa. Sì, ho avuto il compito di matematica. Oggi? Sì. Come è andata? Tutto bene. L'esperienza è bellissima, sia in gara, sia adorato il allenamento. Loro si divertono molto, quindi per noi è molto bello. Ciao! 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 E non andiamo bene perché abbiamo vinto, l'anno scorso, e dobbiamo fare tutto per fatto. Oggi secondo me proviamo la staffetta intera, ci prenderanno qualche tempo, 52 sperano, non ne andiamo pure. Pure. Domenica mattina fai la gara alle 10.45, poi dopo avrai finito il tuo a trovare l'altra. Quindi esserci perché è importante per fare tutti i giochi. Ok, andiamo. Ciao! La gara delle staffette è il periodo bello, sia in allenamento, sia per quanto riguarda la gara in sé, perché è l'unica specialità di squadra, quindi qua si vede proprio l'aggregazione che si riforma tra le ragazze, si danno una carica incredibile, spesso anche noi allenatori, alla fine è una lacuncia che non può scendere. Però quando glielo faccio, glielo faccio il tuo brazzo piegato, il tuo brazzo deve essere atteso, quindi passalo a modo, e il non ti voglio vedere qual è questo, mi raccomando, ma è questo, è questo, e basta, e chi lo riceve aiuta, e chi lo riceve l'imbraccio. Prendiamo i cinesi, ci mettiamo in posizio, e chi lo riceve aiutti, Prendiamo i cinesi, Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Servirà un tempo abbondantemente sotto i sette minuti per vincere questa gara. Andatura tranquilla adesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Al passaggio Elena Perego, Valle d'Aosta che guida la gara, che è ancora su ritmi tranquilli nella sua scia. Giulia Bellini, Bresciana del Free Zone per la Lombardia. E adesso l'andatura sicuramente salirà e anche non poco perché il gruppo è ancora tutto da sgranare. Dobbiamo un ringraziamento particolare a tutti i ragazzi che si sono occupati del campo. Grazie a tutti i ragazzi. Grazie a tutti i ragazzi. e qui alla fine sarà una volatrona. Veneto, che è Francesca, che è Francesca, che è Francesca Dalla Pozza della Polisportiva 2 Ville. insomma, ci sarà una seconda parte di gara veramente forte a questo punto. e adesso vedete come si scatta. Se non erro è la Bellini che è partita. Giulia Bellini che si difende bene nel cross, nelle indoor, su pista. Brava è un po' in tutti i terreni. Giulia Bellini che quest'anno ha corso in 6'39 e 42. E nella sua scia dovrebbe esserci la laziale, ecco lì, è proprio lei, Livia Caldarini. Quest'anno 6'38 e 30, probabilmente sarà a fare loro la vittoria. Livia Caldarini, dovrebbe essere lei in seconda posizione. Bellini e Caldarini e poi le altre. Terza posizione per Francesca Dalla Pozza. E poi in quarta posizione la piemontese Elisabetta Galliano. Forza ragazze! Dai, 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 forza! Al passaggio Francesca Masucci della Campania. In realtà si è andati un po' a strappi, adesso hanno ripreso il fiato e le altre sono ritornate sotto. Attenzione perché sarà un ultimo giro, emozionante, cinque per vincere e non è ancora finita perché anche dietro stanno risalendo. Ultimo giro! All'interno la laziale Caldarini, adesso passa la lombarda Giulia Bellini, Bellini, Caldarini. Terza posizione per la Veneta Francesca Dalla Pozza e poi tutte le altre. Dai, 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 sostenetele, forza! Sostenetele tutte col vostro tifo! E sta facendo una gran gara l'atleta del Lazio, bravissima! Bellini nella sua scia, è un testa-testa finale, testa-testa tra Livia Caldarini e Giulia Bellini. Caldarini, Bellini, spalla, spalla, Caldarini, Bellini. Bellini, 6-46-80, vittoria per l'atleta bresciana della Lombardia, spalla, spalla e seconda posizione, altrettanto brava per il Lazio, Livia Caldarini. E c'è la stretta di mano tra le prime due atlete classificate, bravissime anche tutte le altre, come Francesca Dalla Pozza a Veneto. E quante stanno tagliando il traguardo, ora, come Francesca Badiali e come Elisabetta Gagliano, Piemonte. Poco fa l'arrivo di Elena Perego, Valle d'Aosta, e ora l'arrivo con il numero 8 di Rebecca Volpe, Puglia, da Trigiano. E poi zona arrivo per Margherita Forconi, dalle Marche. Brava! Ragazzi, trovate dell'acqua qua, in zona arrivo, oltre all'ombra. Brave, 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 tutte le protagoniste di questo 2000 metri caldissimo. Intanto facciamo il conto degli oggetti smarriti, c'è una maglietta del Trentino al Giavellotto. Chi l'ha dimenticata può passare a prenderla. Complimenti alle protagoniste dei 2000 metri cadette, che dopo che si sono riprese le aspettiamo in area di premiazione. Vittoria con volata finale per Giulia Bellini, Lombardia. Con lei è stata bravissima anche Livia Caldarini, Lazio, della Libertas Atletica Castelgandolfo Albano. Grazie. Grazie. E tra poco le staffette. Qua abbiamo ringraziato tante persone, ma non abbiamo ringraziato... Stefano Ruggeri, che ormai è un marciatore, avanti e indietro. Stefano Ruggeri, fiduciario dell'Emilia Romagna, ma anche coordinatore di tutti i fiduciari tecnici di tutte le regioni italiane. Detto fra noi è più preciso di un farmacista, tutto lì preciso. E ha curato, si è speso molto insieme a tutto il gruppo di Fidenza per organizzare questo memorial. Grazie. 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 Grazie a tutti i ragazzi delle staffette a portarsi celermente nelle zone di cambio, per favore. Grazie. Grazie. Grazie a tutti i ragazzi. primo cambio a posto secondo cambio terzo cambio attendiamo un attimo per il terzo cambio ok, terzo cambio va la partenza la seconda serie 4% cadetti 4% cadetti 4% cadetti 4% cadetti 4% cadetti Friuli-Venezia-Giulia Piemonte-Marche-Liguria Enrico Sancin il vincitore degli 80 ritmo di primato italiano correrà all'ultima frazione della sua squadra il Friuli-Venezia-Giulia dai 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 bene le Marche bene le Marche ma anche bene il Piemonte Friuli-Venezia-Giulia Marche-Piemonte-Friuli-Venezia-Giulia sono messi bene rimonta il Friuli che avrà adesso Enrico Sancin dai con gli applausi Marche all'esterno Friuli-Venezia-Giulia all'interno Enrico Sancin porta ancora la sua squadra la vittoria 43-80 per Friuli-Venezia-Giulia a tempo ufficioso davanti alle Marche tra poco la terza e ultima serie corsia 2 per la Toscana con Pugliese-Giulli-Tinteri e Tecchi corsia 3 per l'Emilia-Romagna con Cavina, Bandini, Giovannini e Benuzzi corsia 4 per la Lombardia con Iallonardo Vannoncini, Previtali e Minotti corsia 5 per il Lazio con Ascani, Simonelli, Vitullo e Benati corsia 6 per il Veneto con Nicoletti, Santacà, Grimaldi e Sacchetto rinnoviamo l'invito ai frazionisti cadetti a portarsi rapidamente nelle zone di cambio con Iallonardo Grazie a tutti. Nella prima serie avremo Bolzano, Campania, Trentino e Valle d'Aosta. Nella seconda serie Liguria, Priuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte e Puglia. Nella terza Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Lombardia e Veneto. Grazie a tutti. Secondo cambio a posto, terzo cambio a posto. Va la partenza la terza e ultima serie della 4% cadetti. Poi le cadette. Grazie. 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 Grazie a tutti. All'interno Toscana Emilia Romagna, Lombardia Lazio e Veneto, lo spettacolo della staffetta 4% tutte 5 staffette veloci qualche difficoltà nei cambi e va bene l'Emilia Romagna ma anche il Lazio, sta facendo una bellissima frazione il Lazio, Lazio e poi Lombardia Lazio avanti e poi Lombardia all'interno, ultimo cambio cambio un po' lunghi, bellissimo finale con eccolo qua, Benati che porta la vittoria in Lazio seconda posizione per il Veneto e terza posizione per la Lombardia, tempo ufficioso 43 e 65 bene allora siamo pronti anche con la premiazione le ultime due individuali dei 2.000 premiazioni che vengono effettuate dal campione olimpico Stefano Baldini che si sta guardando con attenzione questi giovani ragazzi per quello che riguarda il settore maschile cominceremo da questo il tempo ottenuto dal vincitore scusate, dal terzo classificato 6.04.52 e Lorenzo Cipriani i colori sono quelli della Lombardia il secondo posto 6.00.77 per il Trentino Massimiliano Berti unico a scendere quest'oggi sotto il muro dei 6 minuti in realtà molto caldo e quindi davvero difficile questa gara 5.57.41 per il Lazio Giorgio Saddi e salutiamo questo bel podio dei 2.000 tra poco la prima serie della 4% cadette invitiamo le atlete a portarsi rapidamente nelle zone di cambio grazie avremo in corsia 2 Bolzano con Pellicini Veronese Veronese Vedovelli e Fischnaller corsia 3 per la Campania con Musto Nevano Tarru e Senatore corsia 4 per il Trentino con Riccardi Madella Duchi e piccoli corsia 5 piccoli ma combattivi la bella delegazione della Valle d'Aosta con Rolandin Sergi Genestrone e Giannattasio e mentre le ragazze ai cambi si preparano per apprendere il loro testimone noi andiamo con la premiazione dell'ultima gara individuale di quest'oggi i 2.000 al femminile anche questa è stata una gara combattutissima dividono le prime due pochi centesimi e noi chiamiamo intanto sul terzo gradino del podio 6 51 e 63 per il Veneto Francesca Dalla Pozza il secondo posto 6 46 e 93 allo sprint per il Lazio Livia Caldarini che è stata battuta davvero di poco con il tempo di 6 46 e 81 i 14 punti sono per la Lombardia li porta Giulia Bellini primo cambio primo cambio a posto secondo cambio secondo cambio secondo cambio a posto terzo cambio un attimo di pazienza per il terzo cambio ok va la partenza la prima serie 4% cadette per la prima Grazie. Dai che andiamo, va la partenza, prima serie 4% cadette. Dall'interno Bolzano, Campania, Trentino e Valle d'Aosta, 4% cadette, forza ragazze. Trentino davanti in questa fase, poi la Campania se non erro. Adesso risale anche la squadra di Bolzano. Sempre Trentino avanti. Ultimo cambio, tre squadre vicine. Dai, dai, dai che si va, forza! Vicinissime, tre staffette praticamente quasi appaiate con il gran finale della Campania, 49-95, tempo ufficioso. Tre squadre vicinissime. Campania, Trentino e la rappresentativa di Bolzano. Intanto leggiamo la classifica alla rovescio del staffette 4% maschile, invitando quindi le prime tre al podio. Al tredicesimo posto la Valle d'Aosta, dodicesimo il Trentino, undicesimo Bolzano, decimo la Liguria, nonno la Campania, ottavo la Puglia, settimo l'Emilia Romagna, sesto il Piemonte, quinta la Lombardia, quarta la Toscana. E allora, le prime tre sono il terzo posto per le Marche, il secondo per il Friuli, il primo per il Lazio. Quindi queste tre squadre sono attese al podio per l'ultima premiazione del settore maschile, 4%. E intanto invitiamo le staffettiste della seconda serie a portarsi rapidamente nelle zone di cambio. Parteciperanno alla seconda serie per la Liguria, Ponsicchi, Vitale, Rocchi, Greppi, per Friuli Venezia Giulia, Zanchetta, Corradin, Biason e Ius, per le Marche Yebart, Cucu, Rastelli e Mogliani, per il Piemonte, Canazza, Bacco, Verteramo e Bagua, per la Puglia, Dell'Aquila, Ruggero, Moscatelli e Todisco. Mentre nell'ultima serie vedremo l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio, la Lombardia e il Veneto. Diamo qualche istante di tempo per misurare i piedi nella zona Cambi. E poi seconda serie 4% cadette. Primo cambio, è a posto? Secondo cambio, terzo cambio, ok, alla partenza la seconda serie 4% cadette. Da battaglia. E' il 49-95 della squadra vincitrice della prima serie. Grazie. 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 ricordo su Domenico Luigi Pratizzoli e è da leggere perché ne esce la statura morale di questo grande insegnante allenatore che ha plasmato tante generazioni di atleti e quindi è stato bello oggi onorare questo grande uomo, questo grande personaggio dello sport di cui siamo orgogliosi che è dell'atletica come il professor Pratizzoli con queste belle gare. Lo renderò disponibile perché è un ricordo quello che ha fatto il professor Chittolini molto bello molto intenso tanto ricco di umanità su questa persona di grande statura quale è stato il professor Domenico Luigi Pratizzoli. Lo stavo leggendo perché stavo spiando nei tuoi appunti se ce lo fai avere sicuramente anche lo pubblicheremo sul nostro sito. Bene, primo cambio a posto, secondo cambio, terzo cambio, bene va alla partenza la terza e ultima serie 4% cadette. Dall'interno Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Lombardia e Veneto. parte bene la Lombardia, Lombardia che cambia, che fatica un po' il cambio ma Lombardia avanti ma stanno risalendo molto bene all'interno anche il Veneto, anche il Lazio, la Toscana. Lombardia all'esterno, rimonta il Veneto. Lombardia nettamente avanti, risalgono un po' adesso le altre formazioni come la Toscana. Lombardia, Lombardia per la vittoria, 47-01 per la Lombardia. Attenzione, si è confermata la miglior prestazione italiana per rappresentative, era di 47-57. Mica male, aspettiamo ovviamente il risultato ufficiale. 47-01, tempo ufficioso con cui hanno corso Veronica Besana, la primatista italiana degli 80 ostacoli, Alessia Seramondi, Alessia Gatti e Alessandra Iezzi. Ricordiamola anche lei, bravissima, quest'anno sugli 80 al limite nazionale e ha ottenuto già un notevole 12-05 sui 100. Sempre qui a Fidenza, nel 2014, la Lombardia con Maestrini, Invernizi, Questa e Brunetti realizzò appunto 47-58. Mi dicono dalle premiazioni che sarebbero pronti ma mancano i ragazzi della 4%. Allora, l'ultimo appello e poi dopo procederemo se mancherà qualcuno ugualmente. Lazio, Friuli, Marche. 4% maschili, fra un minuto facciamo la premiazione. Avete fatto 30, fate 31, state qui con noi per le ultime premiazioni delle 4% e delle rappresentative. Intanto un grazie di cuore a tutti i genitori presenti oggi, a questa bella giornata di atletica, grazie alle mamme, grazie ai papà e anche ai nostri nonni, preziosa risorsa familiare, grazie a tutti gli appassionati di atletica, il nostro grazie grande va ovviamente a tutto lo staff qui a Fidenza che ha lavorato per organizzare al meglio questa giornata, grazie ai nostri giudici, a tutti i tecnici che hanno curato la diretta streaming. Insomma, c'è stato un bel da fare, ecco. Tra poco le cerimonie di premiazione della 4%, vediamo le marche ma non vediamo le altre rappresentative. Tra poco verrà ufficializzato anche il risultato della 4% cadette e poi anche il risultato delle rappresentative, in modo che procediamo all'ultimo blocco di premiazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene, siamo pronti con la staffetta 4% alla premiazione. Abbiamo una premiatrice, fra virgolette, di grande spessore atletico di qualche anno fa, è stata una ex, ed è un'ex primatista del Giavellotto, prima della venuta di qualche altra atleta, la Quinta Valla, che noi andiamo a ringraziare di essere qui con noi e a collaborare in questa premiazione. terzi classificati, con il tempo di 44 e 36, sono i ragazzi delle Marche, Massante, Colletta, Mancini, Ghidetti. ecco il quartetto delle Marche sul terzo gradino del podio. Il secondo posto, correndo la disciplina, con il tempo di 43 e 81, sono i ragazzi del Friuli Venezia Giulia, Modesti, Bertoc, Antonell e Sancini. Grazie. Grazie. Hanno finito di mettersi la maglietta e allora possiamo chiamare i vincitori. il Lazio con Ascani, Simonelli, Vitullo, Benati. Ecco qua i protagonisti della 4% maschile. Io ce le ho in macchina che l'hai in fondo, se hai pazienza a 10 minuti, se no, perché purtroppo devo finire queste premiazioni qua. Grazie. 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 Tra poco cerimonia di premiazione della 4% femminile. un attimo di pazienza e poi la classifica finale delle rappresentative che di fatto è già pronta e allora andiamo con la classifica al femminile della 4% anche qui andremo alla rovescio come abbiamo fatto prima con i maschi al quattordicesimo posto la Valle d'Aosta al tredicesimo il Piemonte al dodicesimo l'Emilia Romagna all'undicesimo il Friuli al decimo Bolzano al nono il Trentino all'ottavo posto la Campania al settimo la Liguria al sesto posto il Veneto al quinto posto la Puglia al quarto le Marche e anche qui siamo arrivati al podio il terzo posto è per il Lazio il secondo per la Toscana e il primo posto con la nuova miglior prestazione italiana della specialità la Lombardia quindi Lombardia, Toscana e Lazio le ragazze della 4% al podio invitiamo un rappresentante per ogni regione in campo perché tra poco avremo la premiazione finale quella delle rappresentative appena fatta quella della 4% femminile noi siamo già pronti stiamo aspettando le quattro ragazze delle compagini della Lombardia la Toscana e Lazio la Toscana e Lazio è economico un certo commento eand kolejne sono mille un certo per ogni regione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stefano siamo pronti per la 4% femminile. Il Lazio e le protagoniste sono Alesi, Ricci, Andreini e Cappabianca. La seconda squadra classificata con il tempo di 48 e 41. Sono andate molto forti anche loro, le ragazze della Toscana, Monreale, De Martino, Mazzini e Iapichino. E adesso ci scaldiamo anche se non ce n'è bisogno le mani perché hanno tolto alle compagne di regione perché era sempre per la Lombardia la miglior prestazione italiana per rappresentative. Con questo nuovo record italiano 47-04 la Lombardia con Besana, Seramondi, Gatti, Jezzi. Rinnoviamo l'invito a tutti i rappresentanti delle regioni a portarsi in campo. Intanto risalutiamo anche la Vidotto che è stata una supergalla di Giavellottista perché era una brava Giavellottista veramente la Vidotto. I fratelli Pratizzoli per favore alla premiazione delle rappresentative. Giuseppe. I due Pratizzoli, eccoli qua. Vi ringraziamo dell'opportunità che ci avete dato oggi di vivere qui su questo bel campo dove si parla e si mangia pane atletica qua. Tanto salutiamo ancora le ragazze della 4% con la bellissima vittoria a tempo di primato per la Lombardia. Invitiamo il cerimoniale a preparare le coppe. Dai, state qui con noi a seguire questa premiazione, è l'ultimo momento. E siamo alla cerimonia di premiazione tra un attimo delle 14 squadre. Siamo tutti molto orgogliosi. Vederei per prima riesci comunque a conciliare con tutto, sia lo studio, sia lo sport, sia gli amici. Siamo molto contenti con questa cosa. Tutto bene? Tutto bene? Sì, ho avuto il compito di matematica. Oggi? Sì. Come è andata? Tutto bene. Un'esperienza bellissima, sia in gara, sia adorato gli allenamenti. Loro si divertono molto, quindi per noi, è molto bello. Ciao! 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 Non amavo bene perché abbiamo vinto l'anno scorso e dobbiamo fare tutto per fatto. Oggi, secondo me, proviamo la staffetta intera, ci prenderanno qualche tempo. Quanto a due sperano in una nottura? Pure. Domenica mattina fai la gara alle 10.45 e poi dopo vai fuori tu a trovare l'anno scorso. Quindi esserci perché è importante per fare tutto il gioco. Ok, andiamo. Ciao! La gara delle staffette è il periodo bello e sia in allenamento, sia per quanto riguarda la gara in sé, perché è l'unica specialità di squadra. Quindi qua si vede proprio l'aggregazione che si forma tra le ragazze, si dà una carica incredibile. Spesso anche noi allenatori, alla fine, è una lacuncia che non può scendere. Però quando io lo passo, io lo passo in un braccio piegato. Il tuo braccio deve essere riuscito, quindi passalo a modo e le non ti voglio vedere fare questo, mi raccomando, ma è questo, è questo e basta. E chi lo riceve aiuta e ti resta bene un braccio. Prendiamo i cinesini e ci mettiamo il terzo. Prendiamo i cinesini e ci mettiamo il terzo.